I carabinieri della compagnia di Chieri hanno arrestato un romeno di 32 anni residente a Moncalieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ritenuto responsabile di furto aggravato, un mattone di cemento utilizzato come ariete per sfondare le vetrine dei negozi. Il modus operandi è adottato da questo lato seriale per saccheggiare 12 negozi in provincia di Torino e Cuneo. I carabinieri sono riusciti a identificare l'uomo grazie all'analisi delle telecamere di sicurezza dei negozi e di altre telecamere installate nei comuni interessati. La visione delle immagini ha permesso di immortalare sia il ladro con frammento della targa della macchina utilizzata da esso. Gli accertamenti sulla targa hanno permesso di identificare l'uomo e la comparazione del modus operandi utilizzato in tutti i negozi assaltati con la tecnica del mattone ha permesso di attribuire al romeno la responsabilità di 12 colpi, 5 farmacie, 4 negozi di telefonia e 3 gelaterie. L'uomo è sospettato di aver commesso altri furti.